Sono schemi Sono andati in quella palestra, c'è la quattro liti di poidra, tutt'ora se pagare anche un euro e facerle pulizzi Toccata, oh! Toccata, oh! Perché non giocano nel palazzetto? Perché? Non giocano nel palazzetto Questo è il palazzetto Questo è il palazzetto Non so perché, questo è più bello, senti? Ah sì? Non c'è il palazzetto Non è stile... Non è stile giusto Vediamo scuola anche Giusto Sì? Non è stile Sì? Sì? Non è stile Sì? 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 Non è stile Vedi che sbagli anni passati nelle bancazze, che buco Sì? 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 Sì?